Il messaggio che Gesù ha lasciato non va in consonanza con la nostra mente. Quando gli sposi ci invitano, andiamo alla festa. Chi di noi siamo andati a prendere l'ultima cosa? Cerchiamo, quando possibile, stare vicino agli spiassi. Addirittura domandiamo, dove è il mio posto? Addirittura domandiamo, dove è il mio posto? Addirittura domandiamo, dove è il mio posto? Grazie. 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 Abbi di noi pietà, abbi di noi pietà, potrei salire in cielo, vedere il tuo perdito, ma te ne fa il riso. Grazie a tutti i nostri paesi di colore, tutti noi stessi che partecipiamo in questa aiutazione, a questa protezione, le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri giovani anziani ammalati, perché possiamo ottenere una grazia desiderata al cuore in questo momento. Ave Maria. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.